Cari ragazzi, Focce dall'Albenia, il paesaggio è favoloso, stupendo, stiamo praticando la nostra passione, più c'è qui il signor Mariani, Mario, di Spoleto, guardate, purtroppo ha un handicap questo signore, purtroppo. Eppure è un'operazione che non può camminare, però è stato aiutato a venire qui, vedete il posto? Viene aiutato perché la passione è enorme per la pesca, purtroppo ieri cosa è successo? Che non si sapeva che non si può usare il cagnotto, onestamente non lo sapevamo, ma però anche nelle condizioni del signore è stato multato per 160 euro, questa è l'Italia, questa è l'Italia che si accanisce, signori, Polizia Provinciale per l'amor di Dio, dico che faccio la legge, e legge, ma mettetevi nelle condizioni questo signore che viene aiutato con la sua passione. Ecco questo video qui è per la Federazione Italiana Pesca Sportiva, che non fate più neanche le semi, non fate niente e ci state massacrando, pensiamo di essere peggio dei delinquenti, grazie dell'attenzione. Mario comunque nonostante tutto sei da ammirare, complimenti perché anche stasera oro, sei oro, per me sei il numero uno. Stasera col coreano, niente, anche perché noi che siamo qua a fare, siamo qua a passare un po' di giorni allegri. Ciao ragazzi, questa è l'Italia, andiamo avanti così, andiamo bene, andiamo avanti così. Hai qualcosa ancora da dire Mario? No, no, che dici? Ti farò ricorso fino alla fine. Bravo, ciao carissimo!